Con voi Martino Ciano per le notizie del giorno. In Calabria la politica e il PD cosenza non esiste e l'assemblea di venerdì scorso non è da tenere in considerazione. Il consigliere regionale Carlo Guccione a gamba tesa sulle frizioni manifestate dalla componente democrat provinciale che si è espressa a favore della ricandidatura di Oliverio e alle primarie. Intanto Fernando Laghi indicato dal Movimento 5 Stelle come candidato di superamento fa un passo indietro. Lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano del Sud. Si pensa ai nomi e non ai programmi ha detto perciò preferisco lasciare a scalea un uomo di 51 anni già sottoposto al DASPO misura con la quale si vieta l'ingresso negli stadi è stato arrestato dopo ripetuti tentativi di entrare nel rettangolo di gioco del longobucco di scalea. L'uomo ha anche disturbato la quiete pubblica mettendo a soccuadro l'aria intorno allo stadio e disturbando i clienti di un centro commerciale nel quale il 51enne si era introdotto. A Diamante un giovane di 25 anni è stato trovato morto nella stanza di un bed and breakfast. Da un primo esame sul corpo si è pensato subito a un malore improvviso. Sarà l'autopsia disposta dal PM a sciogliere ulteriori dubbi. A Tortora un 41enne è stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. L'uomo ha cercato di sfondare la porta dell'abitazione della donna. Per lo stesso reato era già stato sottoposto in passato alla misura cautelare in carcere ad eseguire l'arresto i carabinieri della stazione di Praia Mare. I finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno individuato e sequestrato nel porto di Gioia Tauro 61 kg di cocaina definita dagli investigatori purissima. La droga è stata individuata nell'ambito delle attività di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti in un container ed era custodita in due borsoni occultati in un carico di carne congelata. Il container proveniva dal Brasile e aveva come destinazione finale il sud-est asiatico. Serve un tavolo di crisi per la Calabria presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, lo afferma il segretario generale della CGL Calabria Angelo Sposato commentando i dati dell'ultimo rapporto Svimez. Il rapporto a sostenuto Sposato conferma gli indicatori dei mesi scorsi sull'economia della Calabria, regione in recessione con meno 0,3% di crescita. La Calabria non solo non ha cambiato passo ma è sprofondata in una crisi strutturale che rischia di essere irreversibile se non si inverte la direzione di marcia. All'Itimanco di Cosenza si libera il futuro attraverso lo sviluppo di esperienze e conoscenze nei settori dell'automazione e della robotica, grazie ad attività orientate in ambito industriale e professionale che hanno utilizzato sistemi meccanici e meccatronici tradizionali e innovativi. L'Istituto Tecnico Industriale di Cosenza ha promosso all'interno delle proprie aule un progetto di laboratori professionalizzanti per realizzare, riqualificare e aggiornare in chiave digitale con l'acquisizione di strumentazione all'avanguardia. Lo scopo principale del percorso formativo è stato quello di favorire l'apprendimento di competenze professionali richieste dal mercato del lavoro. È tutto, grazie per averci seguito.